Intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea questa sera, domenica 3 marzo, intorno alle 19, nel parcheggio dell'Urban Center di Rivarolo Canavese. I vigili del fuoco hanno liberato un bambino che era rimasto chiuso all'interno della macchina, una Volkswagen Polo. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri la vicenda è andata a buon fine. Difatti dopo una serie di manovre hanno estratto il bambino illeso dalla vettura e lo hanno riconsegnato la nonna. La vigilanza dell'ipermercato ha provveduto a smaltire il traffico che si era formato evitando le code. Grazie. Grazie.